Tradizionalmente si dice la storia di Marisa e le sue mostre, no? La storia di Marisa e le sue relazioni con un'infinità di persone che lei ha segnato. Marisa è un'artista profonda, segreta, questo è il suo spazio, il suo mondo, il suo modo di pensare, di vedere. La storia di Marisa e le sue, la storia di Marisa e le sue, la storia di Marisa e le sue,